Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa del centro GB Fabri per la conferenza di presentazione della gara Atalanta-Spal, programma domani sera alle 20.45 al Jevis Stadium di Bergamo. Non sarà della partita Felipe, prego per domande al mister. Buongiorno mister, Alessandro, seconda l'interesse di Radio International, alla luce della forza dell'Atalanta e dei vari problemi a cui la Spal dovrà far fronte, dove possiamo trovare un pizzico di ottimismo, un pizzico di fiducia? Le troverei nelle qualità dei ragazzi, sicuramente anche domenica a Firenze abbiamo fatto una buona gara, abbiamo dato sicuramente l'impressione, l'idea di fare un certo tipo di gara, di stare bene in campo, di farla per 95 minuti, di fare quelle partite che ci servono a noi, nonostante il risultato, di poter tentare di fare la partita e dei punti. Sicuramente affrontiamo una squadra in grande forma, affrontiamo una squadra che nell'ultimo periodo sta facendo cose eccezionali, sta facendo un percorso anche in Champions League di grande livello, quindi sappiamo di affrontare una squadra specialmente in casa che ha delle grandi qualità, quindi toccherà solo e esclusivamente a noi fare una grande partita, fare una partita di grande volontà, di grande attenzione, di grande determinazione, cercando di mettere in pratica quelle sono le qualità dei ragazzi. Credo che questo giro in andata ci sia servito per vari aspetti e sicuramente gli aspetti che abbiamo toccato in tutte queste partite che abbiamo disputato, si devono utilizzare per mettere in campo certi aspetti che magari in alcuni frangenti ci sono marcati. e quindi mi auguro in questo giro di ritorno ci sia molti aspetti che abbiamo e possiamo migliorare da mettere a frutto per cercare da subito di fare quei punti per uscire da questa situazione classifica. Abbiamo sentito dell'assenza di Filippo, è recuperato invece Tomovic che non potesse essere disponibile e è disponibile anche per 90 minuti pure Ressa? Ma Ressa vedremo se sarà disponibile per 90 minuti, però insomma è disponibile, quindi o dall'inizio insomma o sarà un cambio utile sicuramente, è un recupero importante per noi, sicuramente come dicevi te non avrà i 90 minuti, però insomma è un giocatore che si viene ad aggiungere a un momento anche di varie assenze, quindi recuperiamo un giocatore importante e che possa dare sicuramente il sopporto da quella fine. Mauro Malaguti, restate il carino, ciao mister. Ci dici quali sono gli aspetti, appena detto dobbiamo migliorare alcuni aspetti, ci spieghi a cosa ti riferisci? Mi riferisco in generale un po' a tutto perché sicuramente vedendo la classifica, avendo risultati abbiamo avuto le difficoltà, quindi l'aspetto più sicuramente da migliorare, e lo dicono i numeri, sono l'aspetto del gol, dove sicuramente bisogna avere un'incisività diversa, migliore, ma non solo gli attaccanti, direi con tutti i reparti, perché magari l'anno scorso abbiamo fatto diversi gol su palla nativa, con i difensori, con i centrocampisti, secondo me accompagnavamo meglio l'azione con più giocatori nell'andare a riempire l'area, sicuramente sia Petagna più che di Francesco deve giocare più vicino alla porta, questi aspetti sicuramente sono quelli che bisogna migliorare più in fretta possibile, perché sono anche quelli che ti permettono di provare a vincere le partite, oltre a migliorare gli altri aspetti, la fase non possesso, difensiva, questo è normale e quotidianamente cerchiamo di farlo, però l'aspetto sicuramente in questo momento che ci pensa di più è l'aspetto del gol, quindi bisogna sfruttare meglio e le caratteristiche dei giocatori, e i giocatori si devono mettere in testa di andare a cercare con più determinazione, con più volontà, con più forza, quando specialmente ci capita di concludere verso la porta, di avere quella rabbia che ci deve essere una squadra come la nostra, che fino ad ora secondo me non ha dimostrato quello che magari tutti noi ci aspettavamo. Pensi che serva più cattiveria agonistica? Ma questo sì, dai, questo è l'ABC del calcio, quando giochi specialmente una squadra come la nostra, ma direi tutte, con squadre titolate, squadre importanti, ma squadre anche di pari livello, bisogna mettere direi anche un po' di arroganza, un po' di forza, un po' di spregiudicatezza, che magari forse anche per un demerito nostro, ci siamo fatti condizionare dalla classifica, dal momento negativo, e questo non deve più accadere, come dicevo l'altra settimana non abbiamo più niente da perdere, non c'è più niente da aspettare, non è che si può stare lì a aspettare che ci aiutino gli altri, bisogna aiutarsi da noi, perché siamo a fondo della classifica e bisogna tirarci fuori. Abbiamo le possibilità e quindi bisogna mettere in atto da subito, da domani, una partita difficilissima dentro l'Atalanta. Poi ti faccio un'ultima domanda, il mercato fino a questo momento ti ha più tolto che dato, perché stanno lasciando stare Moncini, Curtiz è andato, Dabou probabilmente lo vedremo domani, comunque ha caratteristiche diverse per una squadra che cerca il gol, sicuramente è Curtiz, quello dei due che piegono nei piedi. Cosa ti aspetti adesso dal mercato? Perché sono venuti fuori nomi importanti che sicuramente sono in grado di rafforzare una squadra come l'Aspalti, poi Ago Falc e Bonifazi, però girano anche nomi di giocatori che non sembrano di livello superiore a quelli che già avete. Grazie. Ma guarda, la società si sta adoperando per cercare di portare dei rinforzi adeguati a quello che è il nostro budget, ma anche il nostro momento. Quindi credo faranno gli sforzi massimali per provare a far sì che arrivano a Ferrara quei giocatori che ci possano inalzare sia a livello di mentalità, di fisicità, ma soprattutto di qualità questo gruppo. E quindi mi auguro che da qui alla fine sarebbe importante un po' prima che potessero arrivare quei giocatori magari si nominano sui giornali, però non è così semplice e quindi stanno cercando al meglio per provare a rinforzare la rosa. Ciao Ministro, Andrea Tebaldi, la nuova Ferrara. Torno anche io un attimo su Tomovic, sta bene, è recuperato del tutto, può giocare oppure bisogna andare con cautela? Può giocare, bisogna andare con cautela perché praticamente ha fatto oggi diciamo la rifinitura, l'ha fatta discretamente, il dolore non è totalmente sparito, però insomma diciamo chi è a disposizione poi vedremo se sarà recuperabile per i 90 minuti o meno, ma insomma la vedo un po' più difficile per questo aspetto. E poi ve lo chiediti, pensi che il campionato ormai sia a quattro squadre e bisogna vincere quel mini campionato lì o pensi che si possa risucchiare qualcun altro? Ma credo in questo momento sia quello, poi mi auguro che a lungo andare e per il merito nostro possano rientrare anche altre candidate, però noi in questo momento bisogna pensare a il Lecce a 15 punti, a 3 punti da noi e bisogna cercare di poter arrivare a quel traguardo lì. Buongiorno mister, Alessio Meri dello Spallino.com Ti chiedo, questo mercato è un po' a rilento, pensi che stia incidendo sulla squadra? Cioè sul momento psicologico della squadra? Ma io credo che sapevamo di essere questo gruppo, sapevamo che la società avrebbe fatto il possibile per rinforzare questo gruppo, bisogna dire che è sempre stata chiara che dovevano partire alcuni giocatori per prendere altri, però ecco è normale quando c'è un mese così, anzi si comincia già un mese prima a parlare del mercato possano essere per alcuni giocatori condizionanti, però il gruppo è sempre stato positivo, è sempre stato nonostante i risultati magari non i più appropriati a quelli che volevamo fare siamo stati abbastanza sereni, però è normale che quando si parla di tanti giocatori in uscita in entrate ci possano essere delle problematiche. ci sono altre domande? Ultima domanda, Debo è in grado di affrontare tutta la partita come ha fatto a Milano, abbiamo visto molto bene a Milano. Sì, ha fatto discretamente era tanto che non giocava, ho schierato per 80 minuti, anzi sono andato anche oltre a quello che volevo schierarlo perché pensavo non avesse già una condizione così buona però ecco sai quando arrivi in un nuovo posto ti vuoi mettere in mostra e lui ha fatto anche discretamente ora comincia diciamo il periodo d'adattamento il periodo dove lui sicuramente ci dovrà dare per le proprie caratteristiche quella mano che noi vogliamo e lui ce la vuol dare e vediamo il campo quello ci dirà però insomma il ragazzo sta abbastanza bene è chiaro che quando non giochi da tanto tempo e giochi 90 minuti in mercoledì poi giocare 90 minuti il lunedì insomma così a breve tempo magari può accusare qualcosa però insomma il ragazzo sta dando ampie garanzie sotto tutti i punti di vista quindi siamo fiduciosi che lui possa fare una buona gara Davide Sottini ti sei appunto conto mercato web ti chiedo se potrà essere la partita di Valdifiori ma sicuramente Mirko ha avuto una problematica meccolo di sennò avrebbe giocato già col Mila stiamo valutando sicuramente nelle scelte di centrocampo anche il suo possibile utilizzo per fare la sennò per fare la sennò di